Buonasera, buonasera, benvenuti al TV giornale di Telestense. Come sempre sono molti i temi di cui ci occuperemo questa sera. Parleremo delle nuove presidenze della Camera e del Senato. Come sapete i presidenti sono stati eletti questa mattina, al termine della mattinata, in virtù di un accordo tra Movimento 5 Stelle e Centrodestra. Parleremo della situazione della Vinilup, uno stabilimento importante del nostro petrolchimico che pare attraverso una situazione che i sindacati definiscono addirittura inquietante. Parleremo dell'agricoltura, perché l'agricoltura dà una notizia positiva. Il fatto che è un settore economico in Emilia Romagna in cui i giovani, quelli che intendono occuparsene, sono in crescita. E poi l'attività dei carabinieri, della polizia, con arresti, segnalazioni, naturalmente con l'obiettivo di garantire la sicurezza sul territorio. E ancora di educazione all'impresa per i giovani, di una nuova infrastruttura sul Po, di cui capiremo poi il significato, e delle giornate del FAI di primavera. Però in apertura voglio mostrarvi le immagini di questa inaugurazione. Vedete questo orologio che a nessuno sfugge lungo Corsi Zonzo? Questo è l'orologio della palazzina dell'Urban Center, della palazzina dell'ex mercato ortofrutticolo di Ferrara, che ha ricominciato a funzionare. Oggi è stato riaperto l'edificio e anche riaperto la cittadinanza. Vediamo. È tornato funzionante l'orologio fermo da circa 30 anni, un simbolo di quel che era il mercato ortofrutticolo ferrarese, conosciuto come il MOF, expertanti, e che ora, dopo sabato, ha riacquistato una nuova vita. Nel pomeriggio di sabato, l'evento di riapertura della palazzina di Corsi Zonzo, restituita alla città per ospitare al piano terra la sede dell'Urban Center comunale e al piano superiore l'Ordine degli Architetti della provincia di Ferrara. Ad aprire l'incontro, gli interventi istituzionali del sindaco Ziano Tagliani, dell'assessora Roberta Fusari e del presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Ferrara, Diego Farina. Poi, la presentazione delle attività dei nuovi inquilini della palazzina, rappresentanti dell'Ordine degli Architetti, hanno anticipato la programmazione dei prossimi eventi e gruppi di cittadini attivi hanno presentato le proprie attività. Durante l'incontro, il sindaco Tagliani ha intitolato la sala delle contrattazioni all'architetto ferrarese Carlo Bassi, scomparso nel settembre del 2017. Il MOF è un gioiello dell'architettura ferrarese tornato definitivamente a risplendere. Ora, dopo mesi di lavori, quello che era il mercato ortrofrutticolo di Ferrara negli anni 30 fino alla fine degli anni 80 è tornato così a disposizione della città. Costato circa un milione di euro e dopo un anno e mezzo di lavori, la ristrutturazione della palazzina si affaccia anche sul parcheggio gratuito ex MOF e ora i ferraresi potranno partecipare all'ideazione di nuovi progetti per la città. E c'è un altro edificio che sta percorrendo una fase di trasformazione molto importante e lo vedete alle mie spalle è il Palazzo degli Specchi che si sta trasformando nelle corti di Medoro. Allora, c'è una novità. Tra sei mesi, vale a dire a settembre, in tempo per la ripresa delle lezioni del nuovo anno accademico dell'Università di Ferrara, sarà pronto lo studentato ricavato nella struttura del vecchio Palazzo degli Specchi che, come dicevo, si sta trasformando nelle corti di Medoro. In pratica, Vittadello Intercantieri, l'impresa che si sta occupando della riqualificazione dell'edificio, lo ha confermato al sindaco Tagliani che poi lo ha reso noto via Twitter. Complessivamente, nell'edificio delle corti di Medoro ex Palazzo degli Specchi, saranno ricavati 233 alloggi, in gran parte da destinare all'housing sociale, cioè all'affitto a canoni calmierati. Poi ci sono 50 alloggi nella Torre Centrale che saranno riservati a studenti dell'Università di Ferrara, una necessità che si è fatta impellente, come ricorderete, nel momento in cui nel corso dell'anno, all'inizio dell'anno accademico attualmente in corso, il numero degli iscritti all'Università di Ferrara è esploso e per cui la creazione di nuovi studentati è diventata assolutamente imprescindibile. Quindi, tra sei mesi, questi 50 alloggi saranno pronti. Dunque, veniamo alle istituzioni, nelle istituzioni nazionali. Questa mattina sono stati eletti i presidenti della Camera dei Deputati e del Senato. Un accordo tra Movimento 5 Stelle e Centrodestra ha portato sugli scranni più alti delle due Camere Roberto Fico, Movimento 5 Stelle, alla Camera dei Deputati, e Maria Elisabetta Casellati, Forza Italia, neopresidente del Senato. L'accordo tra Movimento 5 Stelle e Centrodestra, maturato tra la notte scorsa e la prima mattinata di oggi, ha tenuto ed ora il Parlamento italiano ha due nuovi presidenti eletti. Maria Elisabetta Alberti Casellati, polesana, esponente di primo piano di Forza Italia, è risultata eletta al terzo scrutinio presidente del Senato con 240 voti e la prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato nella storia della nostra Repubblica. Roberto Fico, napoletano, considerato esponente dell'ala più intransigente del Movimento 5 Stelle, è invece il nuovo presidente della Camera dei Deputati, eletto con 422 voti. Nel proprio discorso di saluto ai colleghi deputati, Fico, dopo aver reso omaggio al presidente Sergio Mattarella, ha ricordato che oggi è l'anniversario dell'eccidio delle fosse ardeatine. Poi ha indicato alcuni dei punti che considera fondamentali del proprio futuro impegno. Mi ispirerò, ha detto, a tre principi. Garantire un alto livello di discussione, il rispetto di tutte le componenti politiche, la volontà di interpretare, lo spirito di cambiamento chiesto dai cittadini. E soprattutto, ha detto, le decisioni finali devono maturare solo e soltanto nelle commissioni nell'aula. Non consentirò scorciatoie né forzature del dibattito parlamentare. Servono consapevolezza delle difficoltà, ha detto quasi in contemporanea, nel proprio discorso di insediamento, la neopresidente del Senato Casellati, non digiunta da ragionevole ottimismo e rispetto reciproco delle forze politiche. La scelta comune che avete compiuto di eleggere per la prima volta una donna alla presidenza di questa Assemblea, ha aggiunto la neopresidente, rivolgendosi ai propri colleghi senatori, è per me un onore ed è anche una responsabilità nei confronti di tutte le donne italiane. La neopresidente Casellati ha ricordato le donne che hanno rappresentato l'anima della lotta di liberazione e che sono magistralmente rappresentate da Liliana Segre, antifascista, testimone dell'Olocausto, senatrice a vita. Dopo l'elezione della senatrice Casellati, tra le tante congratulazioni evidentemente di natura istituzionale che sono arrivate, va segnalata in particolare quella del rettore dell'Università di Ferrara, il professor Giorgio Zauli. C'è un motivo, Zauli stesso lo segnala, o ha preso la notizia, scrive, dell'elezione a Presidente del Senato di Maria Elisabetta Alberti Casellati, laureatosi presso la facoltà di giurisprudenza del nostro Ateneo, successivamente collaboratrice alla cattedra di diritto canonico. A nome mio personale, continuo a Zauli e della comunità accademica ferrarese, porgo alla neoeletta le più vive congratulazioni per l'incarico prestigioso e i più fervidi auguri di buon lavoro. Come dicevamo, appunto, la senatrice Casellati è di nascita polesana, ha studiato all'Università a Ferrara, è la prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato, cioè appunto la Presidenza del Senato, e su questo abbiamo chiesto un commento a Paola Peruffo, coordinatrice provinciale di Forza Italia ed esponente del Partito Azzurro, come la stessa senatrice Casellati, sin dal 1994. Paola Peruffo, responsabile provinciale di Forza Italia, che significato ha questo risultato che ottiene il centrodestra, che ottiene Forza Italia, ma che insomma è anche delle donne? Soprattutto direi che è delle donne. La Casellati è senatrice e rappresentante di Forza Italia dal 1994, come lo sono io. Siamo stati sempre vicini al Presidente Berlusconi, anche nei momenti più bui. Finalmente abbiamo anche una donna come seconda carica dello Stato, è la prima volta che una donna ricopre questo incarico. Come Vice Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Ferrara non posso essere che felice. Sono sicura che sarà una persona al di sopra delle parti e che avrà sempre presente il bene del nostro Paese. Lei nel ringraziare i propri colleghi senatori per aver fatto cadere su di lei la propria scelta ha parlato di coraggio. Lei è d'accordo? Sì, perché ci vuole coraggio nell'affrontare dei cambiamenti. Il fatto di aver scelto una donna credo che sia un atto di coraggio e di riconoscimento perché è giusto che finalmente le pari opportunità vengano portate avanti. Non va trascurato il fatto che la senatrice Casellati viene in fin dei conti dal nostro territorio, è polesana. Sì, la senatrice Casellati è nata a Rovigo e abita a Padova. Mi farà enormemente piacere se potrà visitare il nostro territorio e potrà venire in mezzo a noi. Ora andiamo al petrolchimico di Ferrara parliamo della situazione dello stabilimento Vini Loop, dell'azienda Vini Loop. 20 lavoratori vedono a rischio il proprio posto di lavoro. I sindacati parlano di situazione inquietante. C'è uno stato di agitazione e vediamo perché. Ci opera della flessibilità e degli straordinari fino al 21 aprile prossimo. Lavoratori che hanno incrociato le braccia dalle 6 di venerdì mattina per 24 ore. in attesa del tavolo del 3 aprile prossimo con l'assessore alle attività produttive della regione Emilia Romagna, Palma Costi, dove la dirigenza di Vini Loop dovrebbe presentare un piano di rilancio. Continua così lo stato di agitazione all'interno dell'azienda che opera nel settore della plastica. In crisi da due anni e mezzo ormai, i sindacati, fortemente preoccupati per il futuro dei posti di lavoro dei venti dipendenti, invitano la società proprietaria di Vini Loop, la INEOS, a prendere nuove iniziative. La situazione è inquietante perché a fronte, diciamo, di una situazione che evidentemente sta avvolgendo verso la chiusura dell'attività, verso la cessazione della produzione, ad oggi la società, la direzione, non ha ancora comunicato in maniera puntuale e chiara quali sono le proprie intenzioni, per cui se reindustrializzare il sito, se riconvertire l'impianto, se decidere nella chiusura definitiva, se vendere, se cessare l'attività e vendere ad altri soggetti, poiché sappiamo esserci manifestazioni di interesse da parte di altre società che operano sempre nell'ambito dell'attività di lavorazione della gomma plastica. Per cui diventa inquietante perché a fronte di questo scenario c'è la possibilità di garantire il mantenimento dell'attività e dei livelli occupazionali, nell'interesse chiaramente di tutti. Anche nei prossimi giorni potrebbero essere adottate altre forme di mobilitazione. Tutti i livelli istituzionali sono alertati, sostengono i sindacati, e la preoccupazione ora è anche della ricaduta sul petrolchimico di Ferrara di un'eventuale chiusura della Vini Loop. I parchi industriali, come quello dell'ex area Sunway, sono parchi che si tengono insieme perché ci sono attività sinergiche. Perdere una delle attività all'interno di un parco industriale significa mettere in difficoltà, anche in termini di costi industriali, gli altri partner che sono presenti. Questa è la situazione per un settore industriale molto importante del nostro territorio, quello appunto dell'industria chimica. In agricoltura, invece, secondo Coldiretti, ci sono delle notizie positive, in particolare una, che l'agricoltura sembra essere l'unico settore economico, almeno nella nostra regione, in cui cresce la presenza di imprenditori giovani sotto i 35 anni. Vediamo. Il settore agricolo è l'unico in Emilia-Romagna che ha fatto registrare un aumento delle imprese guidate da giovani, cioè imprenditori under 35. Lo annuncia la Coldiretti regionale, informando che al 31 dicembre 2017, sulla base dei dati Union Camere, i giovani titolari di impresa in agricoltura erano 2.351, con una crescita del 2,8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta di un dato in controtendenza, rileva Coldiretti Emilia-Romagna, in quanto in tutti gli altri settori si è registrato un calo medio di imprese giovanili del 4,8%. La crescita dei giovani in agricoltura, commenta Coldiretti Emilia-Romagna, è sempre più legata all'innovazione imprenditoriale, sia in termini di nuove culture, sia in termini di nuovo approccio con il mercato, al punto che il lavoro in campagna si è steso fino alla trasformazione e al commercio con il boom delle vendite dirette dell'agricoltore e di prodotti locali. Proprio per incentivare e sostenere le idee innovative, l'attività di ricerca e diversificazione, la capacità di sfidare la globalizzazione, arriva il premio per l'innovazione dedicato alle giovani start-up nelle campagne italiane. Il premio, informa Coldiretti Emilia-Romagna, punta i riflettori sulla capacità di utilizzare l'innovazione per dare lustro alle tradizioni e ai prodotti locali. Il mondo agroalimentare spiega Coldiretti regionale ha molte sfaccettature e diramazioni che vanno a toccare e legarsi a molti altri settori, dal design al turismo. Il premio sarà articolato su sei categorie che valorizzano la cultura d'impresa, l'importanza dei prodotti italiani, la sostenibilità ambientale, ma anche il ruolo sociale dell'agricoltura e la capacità di presentarsi in modo creativo. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 aprile 2018 e si possono presentare attraverso il sito web giovaniimpresacoldiretti.it Per la cronaca parliamo di quattro arresti nella giornata di ieri e il bilancio dell'attività dei carabinieri di Ferrara in piena attività in questi giorni con i propri comandi stazione. Verso le 19 in località al Lido degli Scacchi, insomma a Comacchio, i carabinieri di Porto Garibaldi hanno arrestato in flagranza di reato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione una donna cinese di 40 anni, domiciliata a Comacchio, pregiudicata che otteneva denaro, in pratica è stata beccata, diciamo così, mentre otteneva del denaro il cambio delle prestazioni sessuali di una giovane connazionale. Poi alle 21.30 i carabinieri di Codigoro hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un 19enne del luogo, pregiudicato. Le indagini erano iniziate a seguito della denuncia di un abitante che aveva rilevato in varie occasioni a manchi di denaro dal proprio portafoglio e quindi poi si è capito perché. A Ferrari, in zona GAD, due persone sono state arrestate, due cittadini di origine straniera, nigeriani, il primo per resistenza di violenza pubblico ufficiale e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Aveva 4 grammi di cocaina e poi si è opposto al controllo sferrando calci e pugni ai militari che però non hanno riportato lesioni ma comunque la resistenza di violenza pubblico ufficiale c'è stata. Poi l'altro arrestato che coabitava con il connazionale, anche egli è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio, era in possesso di 8 grammi di cocaina e 6 grammi di eroina. Naturalmente anche la polizia non è stata ferma, doppio blitz, ne abbiamo parlato già nell'edizione di questa mattina, degli uomini della polizia di Stato, giovedì sera e venerdì sera, in zona GAD ma anche in centro cittadino, serie di controlli molto approfondite effettuati con l'ausilio del reparto prevenzione crimine Emilia-Romagna di Bologna. Obiettivo contrasto dell'immigrazione clandestina e anche dello spaccio di stupefacenti in zona GAD e in centro cittadino. Giovedì identificate 39 persone, 20 di nazionalità stranieri, controllati 51 autoveicoli, denunciato un giovane nigeriano di 23 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Altri controlli sono stati effettuati nel pomeriggio di ieri. Per quanto riguarda la questione dei parcheggi di Kona, c'è il sostegno di Forza Italia o quantomeno una positiva opinione di Forza Italia rispetto a quanto è stato espresso dal sindaco Tagliani sulla richiesta di mantenere la sosta dei parcheggi dell'ospedale di Kona gratuita, quantomeno fino a quando non sarà attiva la metropolitana di superficie che è ancora ben al di là dall'essere ultimata. Sostanzialmente, dice la nota di Forza Italia, che è peraltro firmata da Paola Peruffo, che abbiamo già visto in questo telegiornale, insomma comunque Forza Italia ribadisce il fatto che l'ospedale dove è stato costruito è caratterizzato da una certa scomodità per gli utenti, costringerli anche al pagamento di un balzello, diciamo così, relativo al parcheggio, sarebbe veramente sbagliato e quindi sostegno al sindaco Tagliani nella sua richiesta di mantenere i parcheggi per ora gratuiti. Abbiamo parlato di imprese, qualcuna che va meno bene, qualcuna che va meglio all'inizio del telegiornale, ecco CNA lunedì e martedì avvia ancora una volta una propria tradizionale iniziativa legata alla volontà di educare i giovani all'impresa. Vediamo di cosa si tratta. Saranno più di 700 i giovani degli istituti medi superiori e dell'università che lunedì 26 e martedì 27 marzo parteciperanno alle iniziative di educazione all'impresa organizzate da CNA e visiteranno le aziende ferraresi associate alla Confederazione dell'Arcigianato e della piccola e media impresa con l'obiettivo di comprendere meglio i meccanismi e soprattutto le passioni e le motivazioni che stanno alla base del fare impresa oggi. Le giornate dell'orientamento all'imprenditorialità di CNA Ferrara si prefigono innanzitutto di avvicinare i giovani a questa complessa e viva realtà che, come dice Bruno Faccini, presidente dei giovani imprenditori dell'associazione, può veramente rappresentare un'opportunità concreta per il loro futuro. Da sempre CNA, aggiunge Faccini, opera per avvicinare scuole e università all'universo delle imprese, coinvolgendo innanzitutto i ragazzi ai quali le aziende appaiono spesso un'entità distante e un po' astratta. La prima delle due giornate di orientamento all'imprenditorialità dal titolo Intraprendenti, percorsi virtuosi tra scuola e impresa inizia a lunedì 26 alle 9 presso la sede provinciale di CNA. Inizierà in seduta a plenaria con gli interventi di Diego Benatti, direttore provinciale della CNA, e Bruno Faccini, presidente dei giovani imprenditori. A partire dalle 10.30, workshop tematici dedicati a cosa bisogna sapere per avviare un'attività tenuti dagli imprenditori. I settori interessati sono quelli della ristorazione, della comunicazione ICT e della moda e parteciperanno studenti degli istituti superiori Copernico, Carpeggiani, Bachelet e Carducci. Con l'Università degli Studi di Ferrara è previsto inoltre un seminario dedicato alle imprese start-up innovative. Martedì, tradizionale appuntamento con imprese aperte. Classi di studenti degli istituti secondari di secondo grado si arricchieranno in visita presso imprese eccellenti della provincia di Ferrara. Ferrara da oggi ha riscoperto due luoghi bellissimi grazie alle giornate fai di primavera, Palazzo Gurinelli e la chiesa di Santa Teresa di Gesù. Gli studenti ciceroni hanno accompagnato centinaia di visitatori, domani riprenderanno con la domenica dedicata ancora ai ferraresi e ai turisti. Vediamo. Tanti, tantissimi ferraresi che ci saranno passati davanti almeno una volta nella loro vita, ma in pochi hanno potuto accedere a questo gioiello, la chiesa di Santa Teresa di Gesù in via Borgovado. Chiesa che sorge al fianco del monastero di clausura, entrambi visibili a pochi metri dalla basilica di Santa Maria in Vado, eretti dalle carmelitane scalze che ancora oggi vi si trovano dentro in preghiera. Un tesoro riaperto eccezionalmente per le giornate di primavera del FAI, con gli studenti dell'Istituto Tecnico Leotti Costruzione Ambiente e Territorio di Ferrara, che sabato e domenica sono i ciceroni. Questa chiesa risale a un periodo post-barocco ed è stata progettata e i lavori sono stati affidati al ferrarese Gaetano Barbieri, che appunto ha realizzato questa chiesa barocchetta, che come scopo principale ha l'eleganza, a differenza del barocco, che punta molto di più sulla monumentalità e l'esaltazione delle forme. Al suo interno però sono presenti quadri che differiscono dai tempi di costruzione, poiché ci sono alcuni quadri che risalgono a un periodo a cavallo tra rinascimento e il barocco, come può essere quello della pala principale. Si tratta di un gioiellino incastonato nel centro medievale di Ferrara a due passi dal castrum, la sua particolarità è quella invece di essere settecentesco, ma è perfettamente contestualizzato, non stride affatto questa fabbrica successiva di diversi secoli. Il monastero che abbiamo aperto oggi è un monastero di monache, carmelitane e scalze, un ordine molto legato alla clausura, quindi delle quali non si può visitare la parte principale, quindi magari i due chiostri interni, il grande orto che hanno, ma si può visitare un parlatoio interno così grande, perché è il più grande dei due, e la chiesa. Siamo stati ben accolti dalle suore e comunque abbiamo già visitato in precedenza questo monastero e ci sono già accolti in precedenza per spiegarci la storia della Santa e la storia di ciò che le rappresenta, degli elementi principali che le rappresenta, dei simboli e la storia della chiesa. È la quinta volta che l'Istituto delle Otti prepara i propri studenti per le giornate del FAI. È un'esperienza elettrizzante per i ragazzi e la cosa più bella è vederli inizialmente, quando si presenta loro il bene da aprire, completamente ignari di ciò che contiene e della sua storia. I ferrarese rispondono molto bene perché veramente la scoperta di questa chiesa è stata una novità anche per me, che sono pur ferrarese. Abbiamo trovato poi grande entusiasmo anche da parte delle suore della madre Badessa, che veramente sono 16 suore, sono giovani, sono entusiasti di questa manifestazione perché loro pregano per il bene del mondo e quindi sono contenti che la gente venga a vedere questa loro chiesa. In parallelo, sempre domenica come sabato, si può visitare Palazzo Gullinelli Canonici Mattei in corso a Ercole Primo d'Este, importante dimora di grande interesse storico-artistico, rieperte in anteprima ai cittadini in occasione delle giornate FAI di Primavera 2018. Dunque c'è una notizia di servizio che riguarda la scuola di infanzia comunale Casa del Bambino in corso Biagio Rossetti. Si è verificata la rottura di un tubo dell'impianto di riscaldamento, improvvisa ovviamente e imprevista, gli operatori stanno già procedendo con l'apertura delle strutture murarie, la riparazione idraulica, l'intervento è stato tempestivo, però i lavori dovranno proseguire anche nella giornata di lunedì 26 marzo, pur avendo appunto già iniziato l'intervento questa mattina. In quella giornata la scuola sarà aperta dunque, ma non potrà essere garantita la piena funzionalità dell'impianto di riscaldamento. E la direzione dell'istituzione servizi educativi, l'istituzione scuola si scusa per il disagio. Quindi parliamo, stiamo parlando della scuola di infanzia comunale Casa del Bambino in corso Biagio Rossetti. Ultima importante osservazione, questa notte lancete avanti di un'ora, dalle due alle tre, perché inizia l'ora legale, e quindi dormiremo un'ora di meno, ma da domani ci sarà più luce nelle nostre giornate. Non dimenticate di aggiornare l'orologio, oppure domani sbaglierete tutti gli appuntamenti. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, vi auguro una buona serata, non dimenticate di continuare a seguirci in www.telesense.it e nei nostri profili Facebook, Twitter, YouTube. Grazie. Grazie.